Nunzio Raffio, allenatore del Campo Passo Calcio, arriva una sconfitta che brucia, hanno scontratto con il Mirabello. Non avete interpretato bene la partita, primo tempo male, secondo tempo meglio, però il pareggio non è arrivato. Sì, è così, devo ammettere che abbiamo affrontato il Mirabello in un primo tempo un po' scarno di azioni. Ci pressavano soprattutto sulle fasce, evidentemente ci hanno studiato perché noi abbiamo degli atleti validi soprattutto sulle fasce. E poi anche in superiorità numerica non siamo riusciti, diciamo, nell'intento almeno di pareggiarla la partita, anche se, devo dire, nel secondo tempo abbiamo avuto tantissime occasioni. È stato molto bravo il portiere Pesco, l'avversario, a salvare più di una volta il risultato. Poi ai miei errori a due metri dalla porta, da parte dei miei, non si possono sbagliare, soprattutto negli ultimi minuti di partita. Siete una squadra che gioca bene, poi negli ultimi venti metri vi manca quella cattiveria? Sì, da premettere che noi abbiamo fuori degli attaccanti, insomma, anche di un certo spessore, chi per motivo, chi per un altro, non erano presenti. Quindi siamo molto veloci, questo sì, però non abbiamo effettivamente attaccanti di ruolo, questo bisogna dirlo. Forse, paradossalmente, la superietà numerica vi ha fatto un po' male, diciamo, forse è scattato, vabbè, adesso è più facile. No, no, ma io, infatti, tra il primo e il secondo tempo, l'ho detto ai miei questo, è stato più un male che un bene, perché comunque loro poi hanno cambiato modulo, hanno fatto un 4-4-1, si sono un po' chiusi un po' di più. Sì, siamo andati all'arimbaggio il secondo tempo, siamo stati più tecnici sicuramente, però ci è mancata molta, molta precisione. Forse anche la fretta, chissà, è stata anche una componente abbastanza valida di questa partita. Comunque, c'è il rammarico, adesso ci aspettano due partite, le dobbiamo vincere tutte e due per rimanere in categoria. Comunque, c'è il rammarico, c'è il rammarico, c'è il rammarico, c'è il rammarico.